Danny Bastianon, terzo in gara 1, terzo in questa seconda manche. Danny, come è andata? Bene. Hai fatto un ottimo terzo posto, la pista ti è piaciuta? Sì. Quindi tutto bene? A questo punto sei contento di aver fatto il terzo saluto di giornata, no? Sì. Ci vediamo dopo? Sì. Ok, ciao. Ciao.